Dopo circa due mesi di trattativa, l'amministrazione comunale di Ruvo di Puglia, l'azienda Ruvo Servizi, sindacati e i rappresentanti degli 11 lavoratori impegnati presso la casa di riposo Maddalena Spada hanno raggiunto una soluzione condivisa da tutte le parti. L'accordo prevede che l'amministrazione si impegni a garantire il futuro occupazionale dei lavoratori e il loro inquadramento professionale alla riapertura della casa di riposo, sia nel caso in cui la struttura resti in gestione alla Ruvo Servizi, sia nel caso di esternalizzazione del servizio. Nel primo caso reintegrando i lavoratori con la riassunzione diretta, nel secondo caso inserendo nel bando per l'affidamento della gestione una clausola sociale di salvaguardia di livello occupazionale che imporrebbe l'assunzione delle maestranze precedentemente occupate. L'avvertenza è nata dall'improvvisa chiusura della struttura nello scorso mese di luglio, chiusura imposta dalla regione Puglia che ha intimato al comune di sgomberare e chiudere la casa di riposo ospitata presso l'ex ospedale di Ruvo. Locali di proprietà dell'ASL che presentavano importanti problemi di agibilità e che dovevano essere sottoposti con urgenza a lavori di ristrutturazione e di messa a norma per i quali la stessa ASL ha ottenuto finanziamento. Lo sgombero aveva comportato la conseguente sospensione del servizio e l'interruzione dell'attività lavorativa. Dopo aver trovato una sistemazione a tutti gli ospiti, l'amministrazione si è adoperata insieme ad aziende e sindacati per trovare una soluzione in grado di garantire un futuro occupazionale ai lavoratori. I lavori di ristrutturazione della Maria Maddalena Spada dovrebbero concludersi questo inverno. Nel frattempo i lavoratori licenziati potranno godere di una nuova forma di sostegno per i disoccupati, un'assicurazione sociale per l'impiego. L'accordo sottoscritto disegna con precisione il percorso per la soluzione concreta della vicenda. Viste le condizioni di partenza, ha commentato il sindaco Vito Tombrini, quello che abbiamo siglato è il miglior accordo che potevamo trovare. Spero serva a portare un po' di serenità nelle famiglie ruvesi, provate da questa situazione, ha concluso il primo cittadino. Spero serva a portare un po' di serenità nelle famiglie ruvesi, provate da questa situazione, ha concluso il primo cittadino. Grazie. Grazie.